Cosa è mancato secondo te per arrivare a questi tre punti? È mancato un briciolo di fortuna e sicuramente dobbiamo cercare di fare ancora meno errori e dobbiamo concedere a questo punto neanche uno spudo perché come concede anche un tiro dai 30 metri lo insaccano con una gran parabola quindi non dobbiamo più concedere neanche quello. Non è facile però ci proveremo. Sei d'accordo se ti dico che a Riviera il Fossombrone forse è l'unica squadra che ha giocato un po' di più rispetto alle altre? Beh io ho visto una bella squadra che ha fatto delle sue caratteristiche, un punto di forza che sta facendo bene non a caso ci ha messo comunque sia in difficoltà in una certa parte di campo ma che poi alla fine è stato quel tiro da 30 metri batti e ribatti, palla deviata sul cross, acciaccata dopo, arrivato quello su Rali. episodi che non dobbiamo concedere neanche mezzo a questo punto, lavoreremo per farlo. Grazie Simo. Grazie a tutti.